Dopodiché c'è il tema dei vaccini, ci avviciniamo da quella parte lì e la prendiamo a partire dai bambini. Lei avrà sentito, era già in studio, la polemica che è scaturita delle parole di Giorgia Meloni, Giorgia Meloni ha espresso la sua posizione rispetto al vaccino e al vaccino per la sua bimba e ha detto no, io non ho la vaccino, sa quante sono le possibilità che un ragazzo tra 0 e 19 anni muove di Covid, lo 0.06%, la stessa possibilità di morire colpiti da un fulmine di polemiche, il dato, diciamo, le due cose messe a confronto erano un po' meglio, un po' pere, in molti hanno fatto notare questa cosa. Alessio, dopodiché, a che punto siamo della polemica? Dopodiché hanno risposto due scienziati, quindi ha risposto Roberto Burioni, citando il dato statunitense, eccolo lì, lo vediamo in grafica, sui morti per Covid negli Stati Uniti sotto i 18 anni che sono 900 e i morti per fulmine negli Stati Uniti che sono 28, Nino Cartabellotta che è la prima nostra ospite, il presidente della fondazione Gimbe, ha parlato di disinformazione pubblica sui vaccini, fermare stando la libertà e la liceità di non vaccinare la figlia da parte di Giorgia Meloni, dato che il vaccino non è obbligatorio, e Meloni ha scritto poi un lunghissimo post sui social dicendo che anche la Svezia non consiglia di vaccinare i minori che la comunicazione è stata conclusa. Allora, professor Ricciardi, mi devi aiutare, perché c'è, rispetto a queste dichiarazioni e a questa polemica, ci sono secondo me almeno due piani. C'è un piano che è quello della informazione e della disinformazione, per cui tu ti assumi la responsabilità di informare correttamente o di disinformare. Io non so se è questo il caso, ma questo è certamente un piano. L'altro piano è quello delle scelte personali, trattandosi di un vaccino che è facoltativo e non obbligatorio, tu puoi scegliere per tua figlia di vaccinarla o non vaccinarla. E su questo io credo che ci sia una legittimità assoluta, tale per cui è fuori dal tavolo, non è una cosa di cui possiamo discutere. Però esiste un problema di informazione o disinformazione rispetto alla quale la classe politica del paese si deve interrogare? Ma non c'è dubbio. Però partiamo dal dato. Allora, la consapevolezza che questo virus sia un virus pericoloso non c'è tanto nei genitori. Nel senso che molti genitori pensano che sia un virus benevolo. Vi possiamo assicurare che non è così. Questo virus è un virus cattivo e peraltro è cattivo negli anziani, è cattivo negli adulti, ma non sappiamo quanto cattivo sia nei bambini. Anzi, lo sappiamo, nel senso che i dati ci dicono che oggi il 10% dei bambini che prendono il Covid hanno quello che si chiama Long Covid, cioè a distanza di tempo sono defedati, non riescono più a concentrare, dormono sempre, sono stanchi. E questo è un segnale molto pericoloso nei bambini. Sa perché? Perché nel loro corpo i sistemi sono ancora in formazione. E quindi se il virus penetra all'interno di un sistema nervoso, di un sistema cardiaco, del fegato, non sappiamo quel tipo di virus quanto rimanga. Che danno può produrre. Perché una cosa è che entra all'interno di un corpo di un adulto sano, e abbiamo visto quanti danni può fare, ma figuriamoci all'interno del corpo di un bambino. Quindi dal punto di vista dei dati, sono dati assolutamente preoccupanti. Perché forse non è passato neanche bene il concetto che si tratta di un virus che colpisce il sistema. Noi per lungo tempo abbiamo pensato, lei si ricorda meglio di me, probabilmente la prima fase, noi lo raccontavamo in questo studio, il tema erano i polmoni, i polmoni, i polmoni. Poi abbiamo capito che invece il virus andava a colpire anche altre parti dell'organismo. E abbiamo parlato di virus che colpisce il sistema. E forse questo concetto non è passato abbastanza, perché se cogli il fatto che il tuo figlio viene colpito dal virus, e che quel virus può danneggiare vari organi proprio perché colpisce il sistema, forse questo ti induce a fare un ragionamento, se non altro di maggiore attenzione rispetto alla possibilità di vaccinarlo. Esattamente, questo è un virus sistemico, cioè un virus che una volta penetrato all'interno del corpo umano cerca lo spazio migliore per riprodursi. E negli adulti e negli anziani questo spazio lo trova molto spesso all'interno delle vie respiratorie più superficiali o più profonde, ma nei bambini è dappertutto. E quindi sostanzialmente è nel sistema nervoso, tant'è vero che uno dei primi segnali nei bambini è la perdita dell'olfatto, è la perdita del gusto. Cioè sono tipici terminali nervosi che vengono compromessi. Ma come vengono compromessi questi terminali possono essere compromessi altri organi. Allora, questo ragionamento sui danni che produce il Covid ci porta dritti dritti a ragionamento sui danni che produce il vaccino. Perché i genitori che non vogliono vaccinare i bambini dicono